Ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, il 24enne di Sperlonga, che questa mattina, intorno alle 12, a bordo della sua automobile Seat Leon, è finito fuoristrada sull'asteria che collega Fondi a Sperlonga. Il giovane procedeva alla volta di Sperlonga, quando per causa in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Formia, prontamente intervenuta, ha perso il controllo del mezzo, andando a impattare contro alcuni pali posti a margine della carreggiata, rimbalzando contro la rete di recinzione della cooperativa La Flacca e infine ribaltato, tornando sulla carreggiata. Sul posto un'ambulanza del 118 dell'ospedale di Fondi e i vigili del fuoco, sempre di Fondi. Attualmente è in prognosi riservata, il traffico è rimasto bloccato per diverse ore.